...regionale veloce 20.19 di Trenitalia, proveniente da Torino-Cortanuova e diretto a Milano Centrale, alle ore 14.05, arrivo a Milano Passo. Attenzione, allontanarsi dalla linea gianta, ferma e divasso la sanzia, per centri, nuova, ragione, tanto l'occhio e ragione. Il treno servizio terroviario metropolitano, linea 7, 47, 76, ...regionale veloce 20.19 di Trenitalia, proveniente da Torino-Cortanuova e alle ore 14.01, arrivo a Milano 5. Attenzione, allontanarsi dalla linea gianta, ferma e divasso la sanzia. Attenzione, invidiamo ad assustare altri percorsi da politica del passaggio di persone con disabilità di Sina. Sina. Grazie a tutti. Grazie a tutti.